La legge di bilancio regionale per il 2018 ed il pluriennale 2018-2020 passa con i voti della maggioranza al termine della maratona nella prima commissione consigliare. Le ultime novità, anche attraverso gli emendamenti presentati durante la discussione del provvedimento, riguardano i 250.000 euro stanziati in favore dei 68 comuni costieri per l'acquisto di 272 sedie attrezzate per fornire l'accesso al mare in totale sicurezza dei diversamente abili. Stanziati 20 milioni per la sanità pubblica regionale e 6 milioni in materia ambientale. Metà di questa cifra, 3 milioni di euro, sono in favore dei comuni per sostenere le spese di rimozione dei rifiuti abbandonati. L'altra metà sarà destinata agli interventi di decontaminazione, smaltimento e bonifica dall'amianto. Stessa cifra, 3 milioni, nel bilancio è stata prevista per l'istituzione da parte dei comuni dei distretti urbani del commercio. Altri 5 milioni sono stati stanziati per l'efficientamento energetico degli edifici privati. Tra gli emendamenti approvati, quello che destina 900.000 euro per la legge a sostegno dell'editoria, mentre è stata affidata all'Aggiunta regionale la ridefinizione della gestione delle postazioni del servizio di emergenza urgenza del 118, così da garantire la piena operatività degli operatori di emergenza. La manovra di fine anno approderà in Consiglio regionale giovedì, mentre domani, 24 ore prima della seduta dell'Assemblea, sono stati convocati i sindacati CGL e Cislewil che avevano disertato l'audizione in commissione.